ancora buon viaggio e ben trovati da Firenze Smart Mauro Ciutini in studio segnalate core sulla A1 siamo ad Arezzo coda per traffico intenso in entrambe le direzioni rallentamenti sempre in A1 tra Valdarno e Arezzo questa volta in direzione Roma per un veicolo in avaria e ancora in A1 tra Pian del Voglio ed Aglio al chilometro 255 segnalata nebbia a banchi sulla A1 ricordo per consentire attività di ispezione dei sottovia dalle 22 di martedì 12 alle 6 di mercoledì 13 sarà chiuso il ramo di immissione sulla A11 Firenze Pisa Nord per chi proviene da Bologna del diretto a Firenze in alternativa chi da Bologna deve raggiungere Firenze Centro Aeroporto potrà uscire sulla A1 a Firenze Nord seguire le indicazioni per Firenze Centro Aeroporto infine i treni il 18840 Montevarchi Prato Centrale è cancellato per consentire un controllo tecnico viaggiatori con il 18 758 e 18 674 è tutto buon viaggio a dopo